C'è uno in particolare organizzato da ben 27 anni e che sicuramente è sempre più internazionale. Sto parlando di Fano Jazz by Desi, il festival che torna alla rocca malattestiana di Fano e non solo, dal 18 al 28 di luglio e poi il 24 di agosto. Vado subito a salutare l'ospite di questo approfondimento, nonché direttore artistico del festival, Adriano Pedini. Grazie, buon giorno. Benvenuto nei nostri studi. Grazie, grazie dell'invito. L'evento continua a crescere e a richiamare sempre più pubblico da tutta Italia, ma anche dall'estero, tanti gli ospiti, grandi ospiti attesi nella città della fortuna. Prima di entrare nello specifico del programma, le chiedo il valore del festival in rapporto alla vita culturale, sociale ed economica della città. Il rapporto è molto stretto, senza scomodare Guido Piovene, che nel suo libro del 1953-1956, Viaggio in Italia, ricordava Fano come la città dove è nato il jazz. Vedendo sfilare la famosa musica arabica, ricordo che a Fano c'è stata anche una stagione in cui in tutte le cantine risuonavano note dei ragazzi che producevano musica. Ricordo anche l'esperienza del laboratorio ritmico, ma tutte le altre esperienze musicali. Fano è sempre stata molto ricca di produzione musicale, quindi c'è un rapporto molto stretto e tra l'altro la presenza del festival ha generato anche altre sezioni, chiamiamole così musicali, ricordo che abbiamo un jazz club che è unico nel centro Italia, ricordo i concerti gospel, insomma tante attività, senza le quali probabilmente il festival non sarebbe cresciuto, anzi forse non sarebbe neanche nato, non sarebbe cresciuto e soprattutto non si sarebbe imposto anche a livello internazionale. Per quanto riguarda invece la parte economica, cioè i ritorni economici, voglio solo ricordare che il festival è un ottimo attrattore di risorse pubbliche, perché riceviamo contributi dal Ministero, dalla Regione e dai comuni interessati ad ospitare i nostri concerti. Ultimamente lo scatto economico è stato notevole perché siamo passati dal 2014 ad avere un contributo ministeriale di 10.000 euro, siamo oggi a 61.000 euro, la stessa regione che fino a qualche anno fa aveva un contributo, ci dava un contributo di 21.000 euro, oggi siamo a 39.000 euro, quindi diciamo è un processo virtuoso e significa che il festival è capace di attrarre risorse pubbliche. Dal 2017 siete tornati a casa, no? Allora Camalatesiana che sicuramente è la sede principale dei concerti, però c'è anche il Jazz Village, una delle ultime novità, una delle più importanti insomma di questi ultimi anni. Sì, il Jazz Village è la parte in cui il festival mostra all'esterno il suo valore, il suo valore sia in termini di concerti, in termini di attività, in termini di progettualità. Il Jazz Village, voglio ricordare, è quella parte del festival che raccorda il progetto culturale che si svolge all'interno della Rocca con la città, quindi diciamo che è diventato un po' un salotto dove socializzare, con tante attività, tutte gratuite, ve lo voglio ricordare, abbiamo concerti Young Stage, abbiamo i concerti di mezzanotte per i giovani, ma ci saranno anche le attività didattiche, 40 bambini formeranno un'orchestra, ci sarà yoga e jazz perché si sveglia presto al mattino, la distribuzione dell'acqua free, food, jazz, insomma ci saranno una miriade di attività che raccontano il nostro festival, raccontano qual è il nostro festival, qual è l'idea del festival e qual è il rapporto fra il festival e la comunità. Certo, e Tech Stand invece è lo slogan che è stato cognato per il festival, ci può spiegare il significato? Sì, Tech Stand è un movimento europeo che trae la sua origine un po' da quelli che sono i valori della musica in generale, recentemente l'UNESCO ha definito il jazz un patrimonio dell'umanità, non solo per la parte progettuale, quindi musicale, ma anche per i valori che rappresenta, quindi i valori della solidarietà, dell'inclusione, del rispetto dei diritti umani, del rispetto dell'ambiente, questi valori fanno parte anche di molti festival che oltre al processo, al progetto culturale che è promuovere la musica, la musica d'arte, ha in sé anche questi valori e quindi ci sentiamo in dovere di accumulare il progetto culturale a dei progetti sociali, quindi prendendo una posizione chiara, non stando da una parte, non chiudendo gli occhi, ma aprendoli e soprattutto facendo anche delle azioni sempre musicali, sempre significative, che rappresentano un movimento che prende coscienza e però ci siamo, quindi siamo all'interno di un movimento che si sta facendo strada in maniera molto importante in tutta Europa. Un altro concetto importante è quello del festival dell'anima green. Sì, questo diciamo che è stato fin da quando abbiamo disegnato il Jazz Village, è sempre stato uno dei filoni portanti, noi ci riferiamo un po' a quelle che sono le buone pratiche ambientali, esistono delle pratiche ambientali, anche queste che ormai stanno girando in tutta Europa e che stanno arrivando anche dalle nostre parti, ricordo che anche ultimamente la Regione ha definito dei criteri ambientali, quindi tutte le manifestazioni dovrebbero in qualche misura essere al passo con questi criteri ambientali. Cosa significa? Significa per esempio la mobilità sostenibile, quindi favorire l'uso della bicicletta piuttosto che il servizio pubblico, significa il non uso della plastica, noi sono anni che non usiamo la plastica, neanche i nostri musicisti sul palco bevono le bottigliette ma rigorosamente utilizzano le bottigliette di vetro, significa per esempio utilizzare gli allestimenti con materiale ecologico ecosostenibile, tutti i nostri stand sono fatti in materiale ecosostenibile, significa avere il rispetto per esempio dell'ambiente, coloro che fumeranno, non possiamo fare il divieto del fumo, coloro che fumeranno si dovranno munire di un posacenere, insomma sono tutte queste pratiche, buone pratiche ambientali che determinano un po' anche un modo di vivere il festival, un modo di socializzare che credo oggi sia importante. Tra l'altro poi in questo processo green c'è anche il fatto di dover fare una certa attenzione a quelle che sono anche le problematiche sociali, voglio ricordare il problema dell'immigrazione, a questo tema abbiamo dedicato una sezione particolare che si chiama Exodus, gli Echi della Migrazione, insomma ci sono tutti questi, questa veste green che sentiamo molto, tutti i nostri volontari conoscono bene queste pratiche e lo condividono con noi. Adesso Adriano iniziamo a parlare del programma artistico, quali saranno gli ospiti, gli artisti di questa 27esima edizione? Beh, il festival parte con questo presupposto di dover rappresentare al meglio quello che è il progetto culturale, il festival è un festival di musica jazz, ma io direi di più è un festival di musica creativa contemporanea, abbraccia un vasto ambito culturale contemporaneo. Abbiamo ormai da diversi anni stabilito delle sezioni, le sezioni sono la sezione del main stage, cioè il palco principale, dove avremo dei grandissimi musicisti, dove si alterneranno i più grandi musicisti oggi in circolazione, ne ricordo alcuni, il genio assoluto di Jacob Collier, piuttosto che Paolo Freso, che è il maggior rappresentante della musica italiana, oppure Joshua Redman, Donny McCaslin, Do Bet Miao Re, Rico Rava, ricordo Terry Blanchard con cui inizieremo il programma, insomma sono degli artisti di estremo valore internazionale, e d'altra parte avere questo valore internazionale ci consente di essere competitivi anche con i nostri competitor. E come dicevo all'inizio questo festival è in grado di attirare turisti da tutta Italia, Europa ed oltre, Quale rapporto c'è tra il festival di turismo? Beh, questo abbiamo scoperto, grazie a questo metodo della vendita online, che ormai è diffusissima, abbiamo dei dati che, verificato, dei dati che sono assolutamente straordinari. A tutt'oggi, per esempio, abbiamo delle vendite online, di un pubblico che viene da Siracusa, da Bolzano, da Milano, da Roma, ho un elenco lunghissimo di città, praticamente sono rappresentative di tutta Italia. A questo si aggiunge un altro dato, credo, abbastanza straordinario, non ho memoria di questo, di un pubblico europeo. Abbiamo provenienze, vi dico, dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Russia, dall'Inghilterra, dal Portogallo, Svizzera, Scozia. Cioè, questi sono pubblico che ha già acquistato biglietto e quindi sono persone o gruppi di persone che mediamente si fermano a Fano dai due ai dieci giorni. Quindi è evidente il rapporto che c'è fra il festival e i movimenti turistici. D'altra parte, i festival come il nostro hanno questa, quando riescono ad essere competitivi, quindi ad avere la qualità progettuale, riescono a spostare persone anche da lontano. Se poi mettiamo che il nostro festival è inserito in un contesto vincente, come Fano, con il mare, con l'entroterra straordinario, con la nostra cultura, con la nostra storia, beh, questo è un mix straordinario che probabilmente andrebbe ancora di più valorizzato, forse sostenuto e pubblicizzato fuori dalle abbi. Complessivamente, in percentuale, il pubblico che viene da fuori regione, quindi da fuori dei confini regionali, è attualmente l'89%, quindi è una percentuale significativa con cui bisogna fare i conti, bisogna fare attenzione. Ed è un festival sicuramente che riesce a coinvolgere giovani e meno giovani. Quali sono le iniziative rivolte in particolare ai ragazzi? Beh, quello dei giovani è fondamentale. Il jazz per sua natura è sempre in completa evoluzione e l'evoluzione significa nuove idee, nuove idee significa nuove energie e le nuove energie possono avere solamente i giovani che hanno l'entusiasmo, la passione, le nuove idee. A tutto il movimento giovanile abbiamo dedicato in questi ultimi anni molto spazio, voglio ricordare gli ultimi in ordine di tempo, che sono i concetti di umanesimo artificiale. L'umanesimo artificiale è un'associazione di giovani che ha un progetto proprio sulle nuove tecnologie, sui nuovi sistemi, sul rapporto fra la musica, la vision e quindi nuove energie. L'altro progetto è quello di Cosmic Journey, un'altra sezione particolare fatta da una proposta, che ci è stata proposta da un gruppo di giovani sull'aspetto del DJ set. Quindi a mezzanotte si attiveranno questi DJ set un po' proveniente da tutta Italia, proprio rivolto ai giovani. Ma voglio ricordare poi anche l'esperienza della Mosaico, che è un'esperienza che ci fa tenerezza, diciamo così, perché sono 40 bambini, attualmente mi dicono che ne sono iscritti 43, poi hanno fermato le iscrizioni perché sarebbero ingestibili, proveniente da tutta Italia, e lavoreranno per una settimana per produrre cosa? Una vera e propria orchestra ed è un'esperienza unica nel centro Italia che si sta delineando, si sta diventando sempre più importante. Poi abbiamo pensato anche ai più piccoli, proprio ai neonati, perché avremo due sezioni, una si chiama Favole in Jazz e una si chiama Il gioco della musica. Sono due momenti in cui i nostri esperti musicali lavoreranno per i bambini. Poi c'è la promozione, non dimentichiamo le promozioni per colore che vogliono assistere ai concerti a pagamento. Abbiamo questa promozione per i giovani, la voglio ricordare, perché un ragazzo sotto i 25 anni che acquista un biglietto ridotto, con l'aggiunta di un euro si può portare un amico. Molte volte ci sono dei ragazzi che vogliono il video e sono da soli, con l'aggiunta di un euro si porta un amico. Quindi sono anche promozioni per incentivare i ragazzi ad ascoltare la musica d'arte. Ci sono anche degli eventi fuori porta, pensiamo a Gradara, la colina del Furlo. Devo dire che mai da diversi anni il festival è diventato desportazione. Nella nostra provincia sono sempre di più le località che ci chiedono di portare il festival in questi luoghi meravigliosi. Sono dieci anni che siamo alla Golena. Quest'anno celebreremo l'anniversario del decimo anno alla Golena, che è un luogo stupendo, meraviglioso, che fa conoscere anche l'entroterra della nostra provincia, lo valorizza. Una nota di colore è che il proloco della zona mi dicono che non vede l'ora che arrivi il festival, perché in quel momento ci sono 4.000-5.000 persone che assistono in questo prato a questo concerto straordinario. L'altro concerto importante è quello di Gradara. Il castello di Gradara dentro questo scenario stupendo ci sarà poi il concerto di Enrico Rava. E per il futuro stiamo pensando di organizzarne anche altri, proprio fare una specie di collegamento tra la fine del festival e l'estensione del festival nella provincia. Ci stiamo lavorando. Fanno Jazz by the Sea è sicuramente legato al territorio, ma è anche proiettato in una dimensione internazionale. Di recente è nata una collaborazione, una partnership importante, quella del festival di jazz di Vancouver in Canada. Sì, con la nostra grande sorpresa, lo scorso anno ci siamo visti arrivare alla direttrice artistica del festival di Vancouver. Il festival di Vancouver è uno dei più grandi festival nel mondo, è forse il più importante festival canadese e la presenza della direttrice, ricordo ormai siamo diventati amici, la Robert Rainbow, ha assistito a tutto il festival, si è innamorata del nostro festival, si è innamorata della nostra città e anche del territorio e ha voluto a tutti i costi portare due gruppi dello Young Stage al festival di Vancouver che si è svolto a giunno. Siamo stati ospiti del festival di Vancouver e quindi questa è una partnership che tra l'altro è avvalorata, è sostenuta, è certificata dal Consolato Generale in Italia che ha posto il sigillo su questa partnership dall'Istituto di Cultura di Vancouver e dal Centro Italiano di Cultura. Quindi ci sono delle certificazioni importanti e questa partnership che si è avviata e solamente all'inizio credo che avrà degli sviluppi futuri. Questo è un modo di esportare Fano nel mondo, è un modo concreto di dare la possibilità ai nostri musicisti di avere una vetrina non solo nazionale ma anche internazionale, è un modo per garantire al festival dei rapporti che poi si possono ripercuotere in termini di valore progettuale quando dovremmo andare a chiedere risorse al ministero. Sono processi molto importanti per qualsiasi festival e per il nostro in particolare. Come vede il futuro del festival? Quindi i progetti e sogni nel cassetto? Il futuro lo vedo roseo, nel senso che ci sono delle percentuali di sviluppo incredibili. Abbiamo dei numeri che ci indicano che il festival come il nostro ha delle potenzialità ancora da sviluppare. Quindi dipenderà molto dalla nostra passione, dalla nostra capacità di essere competitivi a livello internazionale. Noi dobbiamo guardare all'Europa perché è là il pubblico che potrebbe portare economie, importanti economie nel nostro territorio. Quindi dipenderà da noi sostanzialmente se riusciremo ad essere competitivi, dipenderà dall'amministrazione se continuerà a crederci come ci ha creduto fino ad oggi. Ma direi che questo processo è ormai inarrestabile, ormai abbiamo inserito nella nostra organizzazione nuove forze giovanili che ormai stanno diventando sempre più importanti e quindi portano nuove idee, portano nuove energie. Quindi il sogno è quello di poter continuare a sognare come abbiamo fatto fino adesso. Dov'è possibile in conclusione poter vedere tutto il programma in completo? Beh, basta andare sul nostro sito www.fannogelbythesee.com e lì c'è tutto il programma con tutte le indicazioni, con tutta la biglietteria, le descrizioni dei concerti. E gli ospiti. E gli ospiti. Ma poi sui nostri social c'è un grande lavoro. Stiamo lavorando con l'università. Adesso non abbiamo avuto modo di parlare delle collaborazioni, sono tantissime, una delle quali è la collaborazione con l'università che appunto faranno un lavoro sui social molto molto importante descrivendo un po' anche non solo l'aspetto musicale ma anche tutti gli aspetti che sono a corollario del nostro festival. E voglio ricordare anche delle ottime collaborazioni che stiamo avendo con queste associazioni green che si stanno dando delle ottimi input e degli ottimi suggerimenti su come sviluppare tutto il processo green. Quindi è un fermento è un work in progress una progressione che credo sia inarrestabile. Quindi mi raccomando cari telespettatori dal 18 al 28 di luglio e poi il 24 di agosto torna Fano Jazz by the Sea. Io ringrazio il direttore artistico Adriano Pedini per essere stato in nostra compagnia e buon lavoro. Grazie per tanto. Grazie a voi. Grazie a lei e grazie a tutti voi per averci seguito. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.